e salve a tutti amici e amiche questo è il canale youtube della sib e io sono pop oggi andremo a vedere la nuova top four ma che l'unica che conoscono è quella da casa fino al mcdonald visto la forma fisica giù vai giù se non sai come come tenerlo guardale guardale invece lo da lui e lo stende gibson forse una power slam no non ci credo non ci credo non c'è uno splash attenzione uno direttamente dal giappone penso eccolo suplex dall'uomo tigre che va con un german suplex 1 2 e 3 è finita jeep è finita ma non voglio c'è cammer e german suplex è qui 1 2 e 3 ma che match ma cosa succede e quindi in mano l'ha contesa andiamo a vedere andiamo a vedere cosa stessi dovrebbe riportare di contendenti mamma mia è finita jeep 1 2 nooo capriola e fare un applauso a questo atleta non ci credo non ci credo è finita 1 2 e 3 incredibile jeep incredibile e fare un applauso a questo atleta non ci credo è finito non ci credo non ci credo anche non ci credo venctoni non ci credo dovrebbe행are di contendenti ma